Ciao a tutti e bentornati su Viaggiamo Easy. Oggi vi porteremo in un'avventura epica in uno dei luoghi più straordinari e remoti del nostro paese, la Groenlandia. In questo video infatti vi guideremo attraverso un itinerario di 10 giorni, esplorando i suoi paesaggi mozzafiato e la sua cultura unica per un'avventura davvero indimenticabile. Se siete pronti cominciamo però subito. Il nostro viaggio inizia con la riva a Kangrenlassuk, un piccolo insediamento situato nella parte occidentale della Groenlandia. Dopo aver fatto il check in hotel esploreremo la zona circostante e ci immergeremo nelle prime sensazioni della Groenlandia. Il secondo giorno invece ci dirigiamo verso l'imponente Island Ice Cup, la vasta calotta glaciale che copre gran parte dell'isola. Un'escursione guidata ci porterà poi su questa isola di ghiaccio, offrendoci viste mozzafiato e un'esperienza davvero unica. Il terzo giorno invece partiamo per Sissimiut, la seconda città più grande della Groenlandia. Qui esploreremo la cultura locale, ammireremo l'arte inuit e faremo una passeggiata lungo le sue spiagge suggestive. Il giorno successivo invece ci imbarcheremo su una crociera attraverso i magnifici fiori di Groenlandesi. Ammireremo le formazioni di ghiaccio, le balene e gli scenari mozzafiato che caratterizzano questa parte del mondo. Il quinto giorno arriviamo all'Ulissat, famosa per il suo fiordo ghiacciato e per essere patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Esploreremo il villaggio e faremo un'escursione per avvicinarci alle masse di ghiaccio che galleggero nella valle. Il giorno seguente invece ci avventuriamo in una delle escursioni più affascinanti. Una visita al fordo è qui, dove possiamo vedere e sentire i ghiacciai staccarsi e cadere nell'oceano. Un'esperienza davvero emozionante. Il giorno dopo invece lasciamo l'Ulissat e voliamo a Narsak, dove prendiamo un traghetto per quarkotok con le sue case colorate e il fascino incontaminato della Groenlandia meridionale. L'ottavo giorno facciamo invece un'escursione alla scoperta delle spettacolari formazioni rocciose di Narsak. Qui possiamo infatti immergerci nelle sue affascinanti tradizioni culturali. Il giorno successivo raggiungiamo Tarlissak, nella parte orientale dell'isola, con un volo panoramico. Esploreremo la cortura in un it locale e ammireremo i paesaggi montani circostanti. Il nostro itinerario si conclude poi con il ritorno a Kangerluassak, da dove abbiamo iniziato questa incredibile avventura. Scattiamo le ultime fotografie per ricordarci di questo posto straordinario. Ecco a voi il nostro itinerario di 10 giorni in Groenlandia. Speriamo che questo viaggio virtuale vi abbia ispirato a esplorare questa terra selvaggia e stupefacente. Se avete domande e suggerimenti, come sempre, condividetele nei commenti qui sotto. Grazie per averci accompagnato in questa avventura e non dimenticate di iscrivervi al canale per ulteriori avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video.